Ha preso il via alla Facoltà di Biotecnologia a Torino il ciclo di incontri il lunedì pomeriggio sulla prevenzione della salute, organizzato in collaborazione con gli Stati Generali dello Sport del Consiglio regionale. Per sei settimane, tutti lunedì, con orario 16.30-18.30, medici, esperti di comunicazione, docenti universitari, approfondiscono in maniera multidisciplinare stili di vita, alimentazione, ambiente e movimento. Ingresso libero sino ad esaurimento posti.